ha visto quando si è rotto? si ho visto perché l'acqua arrivava sopra però mangiava dalle parti laterali capito e allora portato la terra laterale e si è abbassato i laterali solo davanti la parte di qua e di là e l'acqua era tutta sopra 50 anni fa l'acqua soprapponta all'Ulione di Firenze scava oggi scava domani questa volta in modo eccezionale e quindi ha fatto proprio il colpo diciamo definitivo il capo finale a questo ponticiero però diciamo sono già l'ultimo intervento saranno 20 anni qua in Tessantino anche più di 20 anni però non aveva dato nessun cedimento nessuno si era accorto di niente ecco perché si vede lui che sta qui gente che ci passa tutti i giorni e quindi questa volta proprio la quantità la mole di acqua ha fatto diciamo il patatrack insomma. Aveva retto persino all'alluvione del 1966 che allagò Firenze 50 anni fa il ponte sul torrente Gavardello in via del Neschieto ad Arezzo con le piogge che sono invece cadute tra il 5 e il 6 di novembre scorsi il torrente Gavardello ha avuto una portata tale che alla fine ha rotto il ponte. Cinque le famiglie che sono rimaste isolate il comune di Arezzo ha preparato subito un'ordinanza per espropriare provvisoriamente un terreno privato ed allestire così una viabilità alternativa. Beh ieri siamo intervenuti immediatamente è stata creata una viabilità alternativa passando dal terreno di un cittadino che ci ha messo a disposizione questo tratto di strada provvisoriamente e poi vediamo un pochino per il futuro andrà in qualche modo riprogettato il ponte vediamo in quali termini. Per ciò che riguarda la viabilità comunale tutto è tornato alla normalità ma i cittadini quelli allagati adesso si aspettano risposte. E hanno perfettamente ragione ieri abbiamo fatto sopralluoghi con l'assessore Sacchetti con il sindaco per capire quali fossero le cause più che i danni quindi più che intervenire sull'emergenza del momento è stata diciamo un'occasione per capire quali fossero le origini degli allagamenti al di là del fatto che obiettivamente è stata una pioggia eccezionale questo qui si vede per chi da anni non sono stati unicamente nella zona di Antria e nella zona dell'Aretino ma hanno in qualche modo coinvolto anche altri comuni dell'Aretino e non soltanto anche della regione fuori regione quindi è stato un evento assolutamente eccezionale però c'è da dire che indubbiamente ci sono alcune cose che non vanno troppo bene dal punto di vista della regimentazione delle acque a monte in taluni casi e di alcune scelte urbanistiche in altre quindi nei prossimi giorni tireremo le fila insieme al sindaco che renderà pubbliche quelle che sono state le risultanze delle analisi che abbiamo fatto delle indagini che abbiamo fatto e vediamo per il futuro come poter predisporre dei piani di aggiornamento in modo tale che le acque vengano regimentate in maniera corretta e vengano defluite in modo tale da non creare danni alle abitazioni private. Ecco la relazione che invece verrà inviata alla regione toscana che cosa conterrà e ci sono margini poi eventualmente per i cittadini per avere un rimborso danni? Questo è un po' un interrogativo manderemo senz'altro da qui a breve la nostra richiesta di emergenza alla regione non saremo l'unico comune ci saranno anche ovviamente altri comuni della provincia di Arezzo con i quali ci stiamo interfacciando per verificare l'opportunità di mandare univucamente la richiesta e dare anche più peso alla questione anche se di fatto non ce n'è più di tanto bisogno visto che purtroppo la notizia è rimbalzato anche sui giornali nazionali vista l'importanza quindi ci aspettiamo che la regione in qualche modo ci supporti anche perché purtroppo non è il primo evento dell'anno e da soli non ce la facciamo.